eh perchè mu? perchè la patata arriva con le dolcezze proprio qui al fine no? ma che cosa vuol a tutto il cuore? la sciura? c'è altro la torta in forno? eh non c'è che busco la… adesso mettici un po' di rosa dietro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti